Nell'ambito del progetto di educazione stradale domenica 1 giugno organizzata dalla Polizia Municipale si è svolta l'ottava edizione della pedalata in sicurezza. Il ritrovo per i partecipanti si è tenuto sul piazzale dietro l'ex stazione ferroviaria di Sanremo. Si è trattato di una passeggiata non agonistica che ha visto gli operatori del corpo di Polizia Municipale accompagnare i giovani ciclisti in tutta sicurezza sulla pista ciclabile. Sul piazzale è stato allestito un mini percorso così da permettere ai più piccolini di divertirsi in bicicletta o col triciclo mettendo in pratica quanto imparato durante le lezioni a scuola. L'edizione di quest'anno si è inserita nel progetto BimBimBici, manifestazione nazionale promossa dalla Federazione Italiana Amici della Bicicletta e patrocinata dal Ministero dell'Ambiente di cui Conad è sponsor a livello nazionale. Centinaia e centinaia di bambini accompagnati dai genitori hanno preso parte alla pedalata manifestazione che chiude la tre giorni alla sicurezza stradale ideata dal comando della Polizia Municipale. Per i piccoli ciclisti e vigili urbani è stata di sicuro una bella esperienza, un'opportunità per confrontarsi sulle regole acquisite a scuola durante le lezioni sul codice della strada. La pedalata infatti ha avuto come finalità, oltre a quella ludica, di insegnare bambini a giocare in completa sicurezza e soprattutto a rispettare le regole ed avere rispetto per la divisa. Il gemellaggio poi con la manifestazione nazionale ha contribuito ad arricchire la manifestazione. Entrambe le iniziative esprimono una parte importante dell'attività di educazione stradale del Corpo di Polizia Municipale di Sanremo, sia per le notevoli energie che richiedono nelle fasi di progettazione e di svolgimento, sia per la grande affluenza dei partecipanti. La Polizia Municipale da 15 anni svolge attività di educazione stradale nelle scuole, studiando progetti e idee sempre nuove per un maggiore coinvolgimento degli alunni. Alla fine della pedalata è stata offerta dal CONA da una merenda a tutti i partecipanti. Da alcuni anni affiancano la Polizia Municipale in questi eventi l'Associazione Volontari Sanremo Squadra Antincendi Boschivi San Bartolomeo, i Rangers d'Italia, sezione di Sanremo e i Nonni Vigile. La loro attività è utile e preziosa sia per il Corpo di Polizia Municipale, sia per i bambini che ritrovano in un differente contesto coloro che li hanno accompagnati già in altre occasioni.